50 e son due. Potrebbe essere il titolo di un film sulla prestazione di Italo Ferrara a rally delle valli genovesi. Il pilota Alessandrino, in coppia con Massimo Mossino, ha bissato il successo ottenuto due anni fa sempre su una lancia delta integrale 16 valvole. L'equipaggio della Meteco Corse ha tenuto la testa della gara fin dalla prima delle otto prove speciali in programma e dopo aver vinto le prime quattro speciali ha controllato al meglio gli avversari. Così per Diego Solis, al via con una Peugeot 405, non è rimasto che accontentarsi del secondo posto. La classifica prosegue poi con l'equipaggio Benazzo Bocca e Rao Battiato. Solo Quinto Rosina che con una toccata nella seconda metà gara ha compromesso il risultato finale. Belle cose sono venute anche dal giovane Ballestrero, tradito dalla sua Renault 5 che sulla ripetizione della prova di Ciazze ammutolisce, facendoli perdere quasi tre minuti. Proprio un peccato. Nel femminile vince Gisela Rovegno, mentre il gruppo N vede vincitore Benazzo con una Ford Sierra 4x4.